Siamo ridotti all'osso, i mutanti ci hanno lasciato. Questi vent'anni di rinfa de ranfa, de burka de cosa, con cose positive e cose negative. Buttiamo via le cose negative. Prima di tutto la tristezza, la rassegnazione, la vergogna. Noi ci stiamo vergognando di quello che è successo e lo sapete nel cuore. Non possiamo più vergognarci. Dobbiamo alzare la testa, scendere dall'albero. Io sto scendendo dall'albero, mi metto a vostra disposizione col cuore, farò errori sicuramente, non voglio offendere nessuno, non ho intenzione di cadere in nessun tipo di provocazione assurda, inutile. In questo momento abbiamo bisogno di coesione sociale, non di divisione sociale. Ecco, questo è il motivo per cui io mi candido a sindaco di Venezia.